Diminuiscono le prestazioni specialistiche e si allungano le liste d'attesa. Con un calo del 20,1% delle visite ambulatoriali, le Marche sono le penultime in Italia, dietro c'è solo la Campania. Marche dunque fa analino di coda, secondo l'analisi dei dati del quarto trimestre 2016, effettuata da Milena Gabbanelli nella rubrica Data Room del Corriere della Sera. Purtroppo è un indice molto negativo che dà la misura della incapacità di dare risposte ai reali bisogni dei marchigiani in termini di sanità. In questi anni, ormai sono tre anni dall'amministrazione Ceriscioli, c'è stato sempre presentata una regione con praticamente un modello di riferimento come benchmark per il rispetto della spesa sanitaria. Io dico che se non corrisponde a un parametro di rispetto del budget la capacità di dare altrettante prestazioni, io dico che non è una buona sanità. Il vero male della sanità marchigiana sono le liste d'attesa e la mobilità passiva, che sono tra l'altro due patologie strettamente correlate tra loro, perché appunto il cittadino si rivolge altrove, spesso fuori regione, per trovare quelle risposte che la sanità marchigiana purtroppo non riesce a dargli. Questo dato a noi non risulta, commenta il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli. Per le liste d'attesa in questi anni è stato fatto un lavoro molto importante. Abbiamo migliorato l'urgenza e la breve, infatti siamo rientrati nell'obiettivo nazionale. Abbiamo invece ancora difficoltà sulla programmata, cioè sul lungo periodo. Ci stiamo concentrando per migliorare queste prestazioni, conclude il presidente. E a fine anno c'è il rischio che TAC e altre visite specialistiche di controllo possano slittare al 2019. Si ritrova sempre più spesso, visto che i budget sono molto risicati annualmente in questo periodo, comunque entro fino a ottobre, con budget e ristretti se non finiti e quindi con la necessità, e qualche volta si trova anche la scusa della sosta natalizia, per inviare tutto quello che non è estremamente legato a patologie e salvavita a danno nuovo. Ecco invece che noi diciamo come Cisle che investendo poche risorse, ma importanti, sul personale si possono far lavorare di più le macchine, avviare progettualità per i dipendenti e far sì che i cittadini non debbano aspettare mesi per avere la vista da loro spiccata per la loro salute.